Mi aspetto una partita difficile perché troveremo una squadra molto aggressiva e anche una buona squadra, che ha della qualità, sicuramente è una partita che noi cercheremo di approcciare al meglio perché abbiamo l'obiettivo di smuovere un po' questa classifica che al momento ci vede zero punti e quindi cercheremo davvero di dare il massimo per iniziare a fare punti, che è la cosa più importante. In base alle indicazioni delle partite cerchiamo di migliorare tutti quegli aspetti tecnico-tattici che sono migliorabili perché sicuramente questa squadra ha un margine di crescita importante. Poi da un punto di vista fisico le ragazze stanno rispondendo bene ai carichi di lavoro e quindi stiamo cercando anche di incrementare l'intensità visto anche le avversarie di alta classifica e di alto spessore che abbiamo incontrato, le indicazioni che sono emerse insomma di continuare e migliorare gli allenamenti soprattutto da un punto di vista dell'intensità. Speriamo di recuperare Fabiana e Costi che questa settimana si è allenata in modo differenziato, non è ancora al meglio perché purtroppo ha avuto un'influenza veramente di quelle terribili e quindi gradualmente sta cercando di recuperare non so se riusciremo a recuperarla ma comunque farà parte sicuramente della Rosa. Non so quanto potrà essere in condizioni per disputare una partita di 90 minuti ma insomma già averla con noi è tanto. Paola Gobbi ha recuperato e quindi lei ci sarà senza dubbio. Sto cercando di lavorare molto con loro anche sulla fiducia, sulla consapevolezza di quelle che secondo me sono le loro qualità. Io ho davvero molta stima di queste ragazze. Chiaramente loro stanno passando anche un periodo insomma un po' particolare perché quando si perdono tre partite nonostante il gruppo reagisca sempre bene perché ha entusiasmo, voglia di lavorare, il rischio è di perdere anche un pochino di fiducia e quindi cerco soprattutto di tranquillizzarle in quel senso perché davvero questa squadra ha tanta qualità e bisogna avere molta consapevolezza di quelle che sono le nostre possibilità perché sono convinta che il lavoro alla lunga paga e che le qualità che queste ragazze hanno prima o poi daranno dei frutti e spero al più presto.